Musica Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui su questa fantastica mappa horror Da quanto tempo è che ne rifacevo queste mappe horror Fantastiche Benvenuto su Inseepid Horror Map Certo grazie per la mapporo Non piazzare o rompere blocchi Suono 100% Gioco da solo Ok Non incitare va bene Dormi 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 E noi dormiamo 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 Ok Odor Che 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 è che sbatte le porte Qui Allora Che è quello che sbatte le porte Non si vede un bel niente Io sto giocando anche con le luci spente E Non vedere un bel niente Guarda sto facendo anche delle rime Da fastidio Dove devo andare? Dove devo andare? Io qua non sto vedendo un bel niente Spero che Non compaia Nessun mostro Perché sinceramente Non ne ho voglia Ma quindi Mi ha detto Dormi 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 Io ho dormito Ed è ok Perché questo è il fiore Que colorato? No Quanto è creepy Sta cosa C'è un fiore colorato Ok E basta Quello fiore colorato Mi serve per farmi Cagare in mano Ok Ma anche se è tipo Un bottone No vero Troppo facile come cosa Però prima Voglio tornare Cos'è questo posto? Questo posto c'era prima? Cos'è sto silenzio? Dai 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 Oddio Oddio Ci sono delle sbarre Ci sono delle sbarre Messe contrario Perché? Qualcuno mi dica Dove sono finito Perché devo salire Sempre più in alto? Ok Ok La mia situazione è questa Io sto sudando freddo Qui c'era un bottone Perfetto Allora Là c'era un bottone Io adesso Torno indietro Ok Spero che qualcosa Ecco i fatti Infatti Ho sbloccato questo Aspettate Ma io qua sono Sì io qui sono Nella mia Stanza Dormo Ok È giorno Ora ci vedo E qua non c'è più niente Qui non posso passare Qui è tutto Come prima Ok Oddio Che è successo? Oddio Che cosa è successo? Ho sentito qualcuno Sbattere Alla porta Fine Grazie per aver giocato Oddio È stata corta Pensavo Mamma mia Mamma mia Ok Ragazzi Questa mappa È finita Qui Quindi Per questo video È tutto E Bella Grazie